mancano tre studenti per dichiarare salvo il convitto nazionale dell'aquila sarà decisiva infatti la prossima settimana per raggiungere il numero di quaranta iscritti ad oggi le richieste sono trentanove ma solo trentasette sono formalizzate gli ospiti i convittori arrivano dai paesi limitrofi al capoluogo la struttura offre ospitalità e servizi ai ragazzi solo maschi per svolgere gli studi in tranquillità il convitto dell'aquila fondato nel 1815 è stato un simbolo del terremoto del 2009 la sedia originaria ancora lontana dalla ricostruzione in centro storico ricorda quotidianamente la necessità di non far morire questa struttura legata sia alla scuola ma anche a forte vocazione sociale e culturale il rilancio dei servizi del convitto è infatti il progetto per i prossimi anni rafforzare lo studio delle lingue più laboratorie e attività legate alle nuove tecnologie farebbero diventare il convitto una sorta di campus già oggi hanno accesso ai servizi ricreativi e di studio anche gli esterni i semi convittori l'impegno dell'ufficio scolastico del comune della provincia è profuso affinché non si perda la storica istituzione la scontistica sui servizi di trasporto pubblico la riduzione sui biglietti del teatro e del cinema e la riduzione per l'accesso alle attività sportive sono solo alcuni degli incentivi che uniti all'aumento dello stanziamento ministeriale per altre borse di studio per i convittori sono stati resi operativi per trovare i tre studenti mancanti sono stati resi operativi per hutti di tante